Finalmente, disse Salvini a Conte quando fece cadere il governo giallo-verde. Certamente io non sono Salvini e non devo far cadere nessuno. E a me dispiace, come dire, per un attimo rovinare la serenità di questa Assemblea. Chiedo scusa a tutte e a tutti, a cominciare dalle amiche e dagli amici che si affacciano per la prima volta all'Assemblea regionale della Wilco. E però io, chi mi conosce lo sa, quando mi parte l'Embolo, tre, quattro cosette le devo dire. E a me l'Embolo è partito un anno e mezzo fa. Sono ben i Antonacci per chi non mi dovesse conoscere. Sono uno dei 2.900 funzionari online, come piaceva chiamarli a Pasquale Tridico. Orgogliosamente è una RSA della Wilcom della Puglia, del sito produttivo di Casa Massimo. 2.900 lavoratrici e lavoratori di IMSS servizi stanno oggi vivendo il dramma di essere stati internalizzati in una società che a parole, ma soltanto a parole, si arroga il diritto di essere il braccio destro dell'ente di previdenza sociale italiano. Il che è probabilmente vero, se non fosse il fatto che è amministrato da un management aziendale a cui bisogna insegnare prima l'ABC delle relazioni industriali e poi come si gestisce un call center. Io non ho idea se in Italia, nel nostro settore, esistono aziende dove vige uno status relazionale praticamente di facciata. Se esistono chiedo a quelle RSA, quelle RSU di farsi avanti, diversamente, prendeteci come esempio perché chi vi parla è di fronte a voi e di fronte a voi avete l'ennesimo esempio fallimentare dell'ennesima azienda partecipata al 100% pubblica e amministrata non da amministratori, ma da dei veri e propri sciacalli. E allora, Pierpaolo Mischi, quale migliore occasione per poter dire quattro cosette a questa gente? Quale migliore occasione quindi per raccontarle su questo palco, al cospetto di questa platea che racchiude l'essenza dell'essere Wilco? Caro dottor Borri, caro dottor Angiolillo, smettetela di venirci ancora a raccontare bugie provando a mettere le organizzazioni sindacali da parte. Smettetela di andare a raccontare in giro che fate una formazione attenta e puntuale. Smettetela di continuare a prendere in giro i part-time involontari. Smettetela di continuare a mettere le vostre mani nelle nostre tasche scippandoci ogni mese una parte del nostro stipendio. Fatevene una ragione. Mettetevi l'anima in pace e sturatevi bene le orecchie perché non ve lo ripeterò una seconda volta. Che vi piaccia o no, fino a quando le donne e gli uomini della Wilco saranno le stesse donne e gli stessi uomini che da un anno e mezzo siedono ai tavoli di contrattazione nazionali passando per quelli regionali, per i territori fino ad arrivare ad ogni singolo sito produttivo quelle singole donne, quelle donne e quegli uomini su queste partite non faranno sconti a nessuno quelle donne e quegli uomini su queste partite esattamente come da mandato anche del nostro segretario generale della Wilco Pierpaolo Bombardieri non indietreggeranno di un solo millimetro e sapete perché? Perché questa per noi si chiama dignità perché per la Wilcom la dignità è valore perché per la Wilcom la dignità non è messa in vendita non c'è merce di scambio sulla dignità fate una scelta noi l'abbiamo fatta e l'abbiamo fatta un anno e mezzo fa quando abbiamo scelto di stare accanto alle lavoratrici e ai lavoratori di Ips Servizi quando abbiamo scelto Ips Servizi in quanto azienda adesso tocca a voi avete due strade da poter percorrere la prima se vi riconoscete nel significato del termine nobile dignità e allora convocateci al tavolo anche domani mattina se serve non ce ne torniamo a casa ci veniamo a sedere ma sedetevi avendo rispetto delle organizzazioni sindacali in maniera leale in maniera sincera e individuiamo insieme percorsi condivisi diversamente e c'è solo una cosa che potete fare e fatela in maniera dignitosa e vi posso assicurare che se la fate sicuramente avrete la gratitudine di 2.900 famiglie probabilmente quella dell'intero paese prendete atto del vostro fallimento e tornatevene a casa dimettetevi semplicemente perché non siete degni di rappresentare il call center dell'Inps che vi ricordo essere l'ente pubblico più grande d'Europa concludo salvo tu sai il rapporto di amicizia che ci lega al di là della stima e del rispetto che un iscritto della Wilcom deve al proprio segretario nazionale io sono venuto qua a Perugia e ti ho portato un regalo approfittando anche del fatto che tre giorni fa hai compiuto 18 anni prima di dartelo però anche approfittando della presenza di Pierpaolo Bombardieri voglio fare un'ultima considerazione mai mai possibile che in questo paese ogni volta che ad essere messo in discussione è un asset strategico del paese o che ce ne fosse una le istituzioni il governo di turno la politica la magistratura la carta stampata amica del governo di turno nel caso di l'Inps servizi l'Inps la Corte dei Conti ce ne fosse uno tutti quanti fanno a gara perché per chi per primo deve voltare le spalle all'asset strategico chi per primo si deve nascondere pur di non metterci la faccia a tutela della credibilità e della dignità dell'asset strategico il tuo regalo salvo il tuo regalo è una patata questa è la patata bollente di Inps servizi asset strategico del paese questa patata è già nelle mani di Pierpaolo Mischi nelle mani di Vito Gemmati nelle mani della segreteria generale della Puglia nelle mani di ogni segreteria e di ogni segretario generale delle regioni in cui Inps servizi viene lavorata la metto anche nelle tue mani oggi insieme a noi caro salvo mettici la faccia restituiamo a Inps servizi quella strategicità che merita e ai lavoratori di Inps servizi quella dignità che gli è stata scippata viva la Willcom viva la Will consentitevelo viva gli asset strategici di questo paese